Domenica saremo presenti in Piazza Cavalli, proprio in occasione della giornata internazionale sulla violenza alle donne, con uno stand sempre finalizzato ad una campagna di sensibilizzazione e di informazione per le donne che subiscono violenza. Questo progetto camper, sponsorizzato dal nostro Dipartimento e dalla Direzione Centrale Anticrimine, prevede appunto la presenza della Polizia di Stato in tutte le piazze d'Italia per far sì che le donne possano avere un supporto informativo e sapere a chi rivolgersi e cosa fare in caso di violenza.